Secondo me crescere tantissimo, dobbiamo trovare un equilibrio maggiore di quello che abbiamo in questo momento. Abbiamo provato a qualche giocata diversa e si sta lavorando per cercare di avere una squadra ben equilibrata in campo, razionale e nello stesso tempo che sia efficace in fase offensiva. Ci abbiamo sicuramente Palma che è proprio un sostituto di Amaddio, che è un ragazzo molto giovane ma molto interessante. Ha delle belle geometrie, è un ragazzo molto concentrato a livello di attenzione in campo e ha anche una buona qualità tecnica. Poi c'è Di Paolo Antonio che può sicuramente rivestire bene anche quel ruolo. Adesso stiamo avendo un problema in trasferta, i risultati non credo nella sfortuna, non credo nel fato. Sicuramente lì pecchiamo su alcuni aspetti, soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché la preparazione alla partita non è stata quella che ci aspettavamo. Quindi penso che sicuramente la squadra si è resa molto conto di questo fatto qua. Il Prato è una buona squadra, un 4-3-1-2, anche se poi contro di noi hanno sempre cambiato disposizione le squadre avversarie. Però c'è due ottimi attaccanti, Gomez e Capello, che è molto giovane ma molto interessante come giocatore. Quindi è da tenere in grande considerazione. C'è Chiricò, che conosciamo bene, che stava a lanciare, che è un giocatore molto pericoloso. Però dipende da noi se riusciamo a esprimere quella prestazione, se andiamo in campo con quel piglio, con quell'attenzione. Insomma abbiamo grandi possibilità di fare risultati.